Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi wrap up un po' fritto misto dei primi tre mesi del 2020 perché nei primi tre mesi del 2020 ho letto relativamente poco, cioè proprio con periodi in cui non ho letto praticamente nulla e quindi in realtà in tre mesi ho letto più o meno il quantitativo di libri che in un mese normale leggerei in 40 giorni, una cosa del genere. Quindi abbiamo uno un po' così raggruppato, ci sono delle cose buone, delle cose meno buone, insomma, un pochino come sempre e iniziamo subito che a cosa serve fare lunghi preamboli? Non mi ricordo se i libri li ho impilati qua sul tavolo in ordine di lettura o meno, però tanto, non penso che mi interesse. Primo libro di cui vi voglio parlare è un libro che probabilmente io ho letto per ultima sul globo terraqueo e cioè Finanzati dell'inverno di Christelle D'Aboe. Ve ne avevo parlato brevemente, mi pare anche nel video che vi linko a scheda lì, forse, in cui vi parlavo delle letture d'evasione, chiamiamole così. Primo volume della saga dell'attraverso specchi che ormai hanno letto tutti e i parenti di tutti che mi è piaciuto, che insomma mi ha fatto riscontrare un po' quello che hanno detto in tanti, cioè sicuramente punto di forza, ambientazione, mondo, intrighi politici e di potere, i protagonisti non particolarmente accattivanti, il punto forte di questo libro sicuramente non sono i personaggi, però devo dire che se all'inizio del libro veramente volevo sbattere la testa contro il muro ogni volta che compariva in scena Ofelia, andando avanti ho cominciato a capirla e ad inquadrarla sempre di più e devo dire che mi è rimasta la curiosità di andare avanti. Ho anche il secondo volume, chiaramente non una curiosità impellente perché l'ho letto in gennaio, credo, e non sono ancora andata avanti, però sicuramente è una serie meritevole che continuerò, ecco, anche perché voglio vedere dove va a parare, tanto più che in estate, più o meno in inizio estate, dovrebbe uscire anche il quarto ed ultimo volume, quindi così posso anche concluderla in tempi, diciamo più o meno umani, senza aspettare 6.000 anni fra un volume e l'altro. Comunque in realtà non ho nulla da aggiungere rispetto a tutte le altre mille, milla, milla cose che sono già state dette su questo libro. Comunque consigliato, ecco, se le atmosfere vi interessano, buono. Invece è un libro che cuore mio, cuore mio, cuore mio, cuore mio, così magari è dritto. Questa è l'edizione meravigliosa di Illumicrate, il mare senza stelle, che verrà tradotto in italiano con appunto questo titolo che è la traduzione letterale del titolo originale. Non so però sinceramente quando uscirà, se qualcuno ha delle informazioni un pochino più fresche che me lo sappia dire, qua si riconferma la Morgenstern che probabilmente ha capito lei la cosa giusta da fare, cioè scrivere un libro ogni 10 anni. Forse scrivere un libro ogni 10 anni è la tattica giusta per alcuni scrittori e qualcuno dovrebbe anche ascoltarla, Victoria Schwab. Scrivere troppi libri in un anno quando non si sa mantenere il ritmo poi dà vita a risultati orrendi, vengeful. Harry Morgenstern, The Starless Sea. La Morgenstern crea questi mondi stupendi. Lei è lirica, è immaginifica, là si parlava di circhi, qua si parla di biblioteche, di libri, di storie. Un libro come li sa fare lei, sognante, abbastanza denso di emozioni, in cui tutto sommato i personaggi non sono neanche la parte più importante, ma con lei i veri protagonisti sono sempre i luoghi. E anche qui ci sono dei luoghi meravigliosi, da questa biblioteca sotterranea, alle storie contenute dentro a questa biblioteca. È tutto un susseguirsi di scene, di ambientazioni, di mondi, di immaginazione. È proprio... Vi lascia sempre, alla fine, quella bella sensazione di quando vi svegliate da un bel sogno. Ha un potere incredibile la sua scrittura e mi ha rapita, quindi assolutamente da leggere. Non se volete l'azione concitata, non se volete la trama scoppiettante, ma se vi piace sognare e se vi piacciono le storie. Quindi, che altro c'è da dire? Poi, ho finito il terzo ed ultimo volume, e qua io me li ero messi a dritta i libri, io me li ero messi dritti, ho detto così, quando li tiro su, sono giusti. Non erano giusti. Comunque, Amnesty di Lara e Elena Donnelly, terzo volume di una delle mie saghe preferite, cioè quella di Amberlow, di Amberlow che è proprio il primo, ve ne avevo parlato nel secondo video che ho fatto sul canale, che se vi interessa ve lo linko sempre qua, se è qua e se no ciccia, in cui parlavo anche di Amberlow, oltre che di Il lungo viaggio di Becky Chambers, del priorato dell'albero dell'arancia e della Shannon, fra l'altro tutti consigliatissimi. Amberlow, una delle misterie preferite, un po' spy story, un po' cabaret, è un po' seguiamo personaggi moralmente grigi, fare cose spesso stupide, e poi ci affezioniamo perché sono dei deficienti. Amberlow contiene moltitudini, come dicono i poeti, anche questo volume si riconferma meraviglioso. Di tutta la trilogia, come spesso capita, il secondo soffre della sindrome del libro di mezzo, che quindi se ne fa anche un pochino a meno. Questo, splendido. Una riflessione sul PTSD, sullo stress da disturbo post-traumatico? Disturbo da stress post-traumatico? Qua proprio... Vabbè, non sono psicologa, perdonatemi, ne sento sempre parlare in inglese. Comunque sul trauma, sulla ripresa, sull'identità... Bello. Bello, bello, bello. La prosa della donna lì è stupenda. A volte è un po' barocca, ma non scade mai nell'eccesso, almeno per quello che è il gusto mio personale. E poi sì, cioè, se vi piacciono le brutte persone, le brutte persone che però capite, a cui vi affezionate, siete nel posto giusto. Quindi, assolutamente da recuperare. Non esiste in italiano, so che in generale è un po' mal cagata, ma secondo me è un errore. Poi, prossima lettura. Qua ovviamente si accettano scommesse sulla... Lo prenderò su giusto, lo prenderò su sbagliato, giusto, sbagliato, e vai! Letteratura per ragazzi, Maria Rutkowski, The Winner's Curse. Il classico esempio di Il problema sono io, non sei tu. Nel senso che il libro è ottimo. Questa è letteratura per ragazzi, fatta bene. Se io dovessi consigliare un libro per ragazzi, a un adolescente, o comunque a qualcuno che è interessato ai libri per quel tipo di target, sicuramente questo sarebbe uno dei primi titoli che consiglio. Scritto bene, con una splendida protagonista, per niente odiosa, molto intelligente, ma che però non è sempre miracolosamente bravissima, perfettissima. Una storia che comunque, soprattutto, se pensiamo che è creata per un pubblico molto giovane, sicuramente con i suoi intrighi interessanti. Il primo volume è molto pesante sul romance, purtroppo, sulla storia d'amore fra i due protagonisti. So che andando avanti ci si sposta più sull'intrigo politico e un pochino di meno sul romance, anche se rimane comunque importante, che però credo che possa essere una cosa che al suo pubblico di riferimento possa piacere. Io questo l'ho finito. Ho iniziato il secondo, che è The Winner's Crime, mi pare, che però ho lasciato a metà perché mi sono resa conto proprio che non mi interessava. Non è un libro che mi interessa, non è una serie che fa per me, ma ripeto, assolutamente non per problemi oggettivi del libro, proprio solo un discorso di interesse mio. Quindi è una lettura che io ho interrotto, ma se questo è un po' il vostro mondo, potrebbe valere la pena recuperarlo. Quindi, ma, ci potete, ci potete fare un pensiero. Poi, 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 anche qua sarà dritto, sarà storto, ovviamente storto, Fosca di Gini Ugo Tarchetti. Di Fosca avevo parlato qualche video fa perché è uno dei titoli che avevo inserito fra la rosa di cinque libri classici, un po' inaspettati, non scontati che ho intenzione di leggere quest'anno. Questo è il primo che ho affrontato. Mi interessava particolarmente perché il mondo della scapigliatura mi affascina molto, però io non avevo letto nulla in realtà di prodotto effettivamente dagli artisti di quella corrente. questo è un po' il romanzo, diciamo, simbolo, un po' la bandiera della letteratura della scapigliatura e mi interessava in modo particolare. Un romanzo psicologico che ho trovato estremamente interessante, a parte che mi è, fra virgolette, piaciuto come il protagonista sia fondamentalmente un Gary Stu, cioè una Mary Sue al maschile e veramente un uomo un uomo forse non non di grandissima sostanza è sempre un po' un po' ingenuo forse nei suoi sentimenti che chiaramente può essere interessante nel contesto di un romanzo psicologico però insomma il motivo principale per cui secondo me questa è una lettura che vale assolutamente la pena di fare è proprio la figura di Fosca Fosca che è un personaggio negativo ma anche tragico in cui ci si può immedesimare con una forza di sentimenti ed emozioni a volte cieca spesso distruttiva con veramente ha una c'è una proprio una potenza nella sua interiorità nella sua psicologia nella sua emotività che è estremamente affascinante che cattura e a volte disorienta anche come sia proprio lei come persona e l'ho trovato un ritratto di un personaggio davvero davvero ben riuscito chiaramente posso capire che non faccia per tutti però soprattutto se vi interessano i romanzi psicologici e i ritratti delle personalità dei personaggi dei romanzi questo è veramente una lettura molto gratificante ed estremamente ed estremamente interessante e io ve lo consiglierei anche se vi piace scrivere e quindi insomma siete aspiranti o comunque anche già come dire non affermati però insomma se comunque scrivete ecco un personaggio come Fosca secondo me può essere di grandissimo aiuto per capire come creare un personaggio denso complesso e tragico davvero davvero meraviglioso quindi quindi molto buono poi il prossimo libro storto ormai mi giro e li guardo per risparmiarvi l'ennesimo libro sollevato male è stata una super delusione mi è dispiaciuto tanto ed è The Parting Glass di Gina Marie Guadagnino cerco di non accecarvi col riflesso della copertina chissà se ci riuscirò un libro in cui in realtà io nutrivo grandissime speranze perché stiamo parlando di un libro ambientato ad inizio ventesimo secolo negli Stati Uniti quindi una classica storia in costume però queer cioè ci parla di questa cameriera che viene dall'Irlanda e appunto diventa la cameriera personale di questa tizia ricca della bella società e insomma questa cameriera è super invagita della sua padrone e poi in mezzo si immischiano anche insomma poi tutta una serie di discorsi sul fratello di questa cameriera sull'essere irlandesi sull'indipendentismo irlandese insomma poi ci sono anche tutta una serie di intrighi più politici questo libro aveva tutte le carte in regola per essere un preferitissimo se solo fosse stato scritto da qualcuno che è in grado di scrivere i libri allora innanzitutto per essere un libro che comunque segue parecchie sottotrame diverse tutte con degli sviluppi che richiedono del tempo è un libro troppo sottile perché stiamo parlando di un librino veramente piccolo che per seguire tutte le trame che inizia ad intessere non ha abbastanza tempo infatti certe volte le cose succedono in maniera assolutamente repentina questo è il classico romanzo che almeno secondo me deve essere un mattone cioè quando si tratteggia un mondo abbastanza vasto soprattutto se nel passato quando è abbastanza corale quando ci sono sia delle vicissitudini personali che delle vicissitudini sociali che politiche bisogna prendersi il tempo secondo me di parlarne bene cioè di avere il coraggio di creare una narrazione ricca densa ci deve essere un po' di opulenza nel modo di raccontare questo tipo di storie invece raccontarla in maniera un pochino scarna come se fosse un romanzo contemporaneo così non gli è mancata veramente la sostanza cioè questo poteva essere lo scheletro anche abbastanza interessante di una storia che però manca di tutto il resto poi la scelta nel finale poi per me è inaudita incomprensibile insensata e però proprio di una povertà questa ero io leggendolo sono sfracellata al suolo come un nuovo gettato dal quarto piano e niente purtroppo purtroppo ci stanno e invece chiudiamo con l'ultima lettura che non è un romanzo ma è una graphic novel e cioè è l'ultimo volume miracolosamente dritto di The Wicked and the Divine e dico l'ultimo volume nel senso che è proprio la fine della storia di The Wicked and the Divine questa si riconferma la mia graphic novel preferita io la preferisco anche a saga I said what I said il solito cast di divinità super variegato con ottima rappresentazione una trama magari non originalissima ma sicuramente non portata avanti in maniera scontata anzi un ottimo finale per una serie che mi ha proprio rubato il cuore questo fra l'altro mi è stato regalato da Elena di Miss Nerely per il mio compleanno e prima di iniziare a leggerlo ho ripreso in mano tutti i volumi precedenti vabbè saltando l'ottavo che è una collezione di speciali e diciamo di storie a loro stanti l'ho riletto tutto proprio tutto d'un fiato in modo da seguire l'arco narrativo nella sua completezza ed è stato meraviglioso sono felicissima di averlo letto di averlo scoperto e ve lo consiglio di tutto 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 cuore fra l'altro ho come dire assorbito un po' un consiglio al contrario di Andrea Andrea Belfiori che aveva provato a leggerlo e non gli era piaciuto e quindi aveva detto ho lo stesso problema che ho avuto con American Gods quindi se vi piace American Gods leggetevi The Wicked and the Divine io l'ho preso al contrario nel senso che American Gods ce l'ho non l'ho ancora letto ma visto che io amo The Wicked and the Divine sicuramente la lettura di American Gods è scattata molto più in avanti nella lista delle mie priorità di lettura bene un libro storto dopo l'altro siamo arrivati anche alla fine di questo wrap up del primo trimestre diciamo del del 2020 i prossimi wrap up dovrebbero ritornare ben sì lì perché sono ritornata a leggere ad un ritmo più o meno normale o comunque abbastanza in linea con i miei soliti ritmi di lettura quindi dovrebbe esserci insomma abbastanza ciccia per parlarvene ogni mese quindi spero che vi faccia piacere il ritorno il ritorno dei wrap up se questo video e anche gli altri contenuti che porto vi piacciono non dimenticatevi di scrivervi di commentare potete anche lasciare un mi piace o un non mi piace se non vi è piaciuto ditemi cosa avete letto voi se c'è qualcosa che mi consigliato da cui invece mi devo tenere assolutamente alla larga sotto nell'info box trovate anche il link al mio instagram e a goodreads come sempre grazie grazie mille per aver guardato e noi ci rivediamo alla settimana prossima ciao ciao